Dopo quattro sconfitte consecutive Lomenia ritrova il sorriso, lo fa battendo a liberazione 2 a 1 il Cavaglià. Un risultato tutto sommato giusto per quanto visto nell'arco dei 90 minuti di gioco. La prima chance al tredicesimo però è per gli ospiti e Brusa, migliore in campo, è miracoloso sul colpo di testa a botta sicura di Antigua sulla cross di Romursi. Alla ventiduesimo bella discesa di Gallo sul cross in mezzo, ci sono brividi per la difesa rossonera. Alla trentatresimo Picozzi ha sui piedi la palla dell'avvantaggio ma perde troppo tempo. Alla fine la sua conclusione viene intercettata da Ronzi. Picozzi si riscatta però alla quarantasettesimo quando di prima intenzione di destro mette il pallone sotto la pancia del portiere del Cavaglià per il vantaggio rossonero che fa esplodere liberazione. Liberazione però può esultare anche due minuti dopo perché in pieno recupero al quarantanovesimo c'è un calcio di rigore per Lomegna. Fallo di mano netto di Tonnello sul cross dello stesso Picozzi. Dal dischetto trasforma Cabrini nella ripresa. Non succede nulla fino al quindicesimo quando il sinistro di Gallo leggermente deviato viene intercettato senza troppi problemi da Brusa. Al ventesimo punizione calibrata di Puzzello la palla termina fuori per una questione di centimetri. Al trentesimo il Cavaglià riapre la contesa. Gol meraviglioso al volo di destro da fuori aria di Tonnello che si insacca sotto la traversa dopo averla toccata. Al trentaquattresimo ancora Tonnello fa venire i brividi a Lomegna. Al quarantunesimo provvidenziale Brusa a salvare il risultato dopo cinque minuti di recupero termina 2-1 per Lomegna.